Sarà un'opera di grande respiro che aiuterà attraverso i diversi registri espressivi e alcune meditazioni ad approfondire il mistero della morte e risurrezione di Cristo. È la via Crucis, le 14 stazioni della croce di Franz Liszt che sarà proposta sabato 13 aprile in cattedrale alle 21. L'evento è realizzato dal Teatro Stabile di Verona e Alive in collaborazione con gli amici della musica con il patrocinio di numerosi enti e in collaborazione con l'associazione Chiese vive. L'opera di Liszt fu eseguita solo 50 anni dopo la morte dell'autore. Liszt ha impiegato un linguaggio di una grande varietà, anche questo la rende unica perché non si è mai vista un'opera nella quale ci sia di tutto, dal canto gregoriano alle musiche, alle armonie moderne della musica del Novecento che lui anticipa e quindi al di fuori del sistema tonale, ai corali luterani che lui armonizza a modo suo in maniera magistrale, ai cromatismi wagneriani quindi anche a certa musica romantica, insomma c'è di tutto. Lui impiega ogni possibile mezzo espressivo per rendere una cosa così alta, così sublime che poi la rappresentazione del dolore stesso che è la passione di Gesù, lasciando però una speranza che è la Ressurrezione. I solisti sono Alice Marini e Romano Dalzovo. A impreziosire l'opera saranno alcune parti recitative affidate a Paolo Valerio e quelle del coro giovanile Alive. Ho scelto per questa Via Crucis alcuni frammenti da Mario Luzzi, da Luigi Santucci e quindi sarà una meditazione sul mistero della passione di Cristo e quindi momenti dedicati alla lettura che ci vogliono far pensare, ci vogliono far vivere questa grande emozione attraverso le parole sia dei Vangeli che di questi grandi scrittori. Il coro giovanile di Alive verrà coinvolto in questa partitura che per loro è una novità, è un'indagine sul mistero della morte, è un momento di approfondimento per le loro anime, di raccoglimento e di concentrazione sul silenzio. Per il coro Alive, soprattutto il coro giovanile, è la prima volta che veniamo presentati all'interno del Comune di Verona in maniera così importante. Siamo molto emozionati, abbiamo lavorato tanto, ognuno con le proprie difficoltà e i propri impegni perché siamo tutti ragazzi giovani dai 14 ai 24 anni. La serata, ingresso libero fino a esaurimento posti, è in ricordo dell'architetto Rinaldo Livieri, autore tra gli altri della Stella in Piazza Bra, a 20 anni dalla morte e dell'Uos Cerris per l'impegno nel campo della disabilità.